Il clima impazzito di agosto tra caldo intenso e nubi fragi ha portato ad un consistente anticipo della stagione dei funghi, tanto che si sono registrati i primi casi di intossicazione e l'ASL è dovuta correre ai ripari, aprendo con altrettanto anticipo gli sportelli micologici in provincia di Arezzo. Sono ben sei casi di intossicazione che si sono registrati sabato scorso, tutte persone adulte appartenenti allo stesso nucleo familiare che si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro. Su richiesta del medico è intervenuto il micologo della zona valtiberina che dalle indicazioni ricevute sui sintomi dei pazienti, dai loro racconti sui quantitativi consumati nei giorni precedenti e dalle fotografie presentate ha indicato come causa la quantità eccessiva di funghi consumati. Se pensiamo che in tutto il 2018 gli intossicati erano stati 14 dopo i sei casi di sabato, la stagione dei funghi appena cominciata rischia di produrre ancora più casi. Sempre nel 2018 le persone che sono affluite agli sportelli micologici sono state 318 a dimostrazione dell'utilità di questo servizio. L'ASL nel frattempo ricorda che anche i funghi commestibili possono provocare intossicazioni se consumati in stato di decomposizione, dunque invasi da muffe tossiche o da larve di mosche che ne rendono la loro carne non commestibile. Per la specie amanita cesarea ovulo va fatta un'ulteriore precisazione, c'è la consuetudine di raccogliere questo fungo quando è ancora chiuso a forma appunto di ovulo. È una pratica vietata dalla legge, non si possono raccogliere quando sono in questo stato. In natura esistono altre specie di funghi che da giovani sono racchiusi nell'ovulo ma sono appartenenti ai funghi tossici tra cui la famosa amanita falloide. Ne bastano 70 grammi per far morire un uomo adulto. Il consiglio è quello di raccogliere sempre funghi sani con tutte le caratteristiche proprie della specie, mai vecchi o a muffiti o al taglio con presenza di gallerie e larve nel gambo e nel cappello. Meglio non farli consumare ai bambini sotto i 12 anni o agli anziani.